No 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 Vola aftershof Ma che cazzo fai Ma che cazzo fa? Ma che cazzo fa? Ho sbloccato la V adesso il compagno di questo pervertito Ma vaffanculo va Ma ah ah fuck you what for you is ok for me no you just fuck it up Fai start ero già pronto Quinted not good No focus Dai in su Mamma mia ho ma manco leggere neanche leggere uno dice vabbè questa non sa leggere neanche leggere Un riso crea grazie al cazzo con la passiva degli attack speed Sì ho con la V contro due ranger Un riso che cazzo pure 嗎? Ho io... Ma che rosso? Ce di aè? Grazie a' Se il cazzo è e se le Va Non può Non può E' un puscio. Eh lo sa che vuoi... Eh lo sa che... Ho sempre voluto che... Ma non... Qua potrebbero essere... Older da clerici. Vedendo... Cazzo. Bobby Boots. Questo è... Questo lo clicchiamo e andiamo. Andiamo. Vamos. E pinghiamo Eldreal. Bella pomodoro. Bentornato Avalon. Ciao caro. Ben ritrovati. E andiamo all'evento di Moby. Con mare già su Dead. Abbiamo coraggio. Bene. Una mano su Mumu. Andiamo una mano su Mumu. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Ezreal. Checo. Abbiamo ucciso barbaramente. Organa. Perché Ezreal non è riuscito a tronare una busta. Non è riuscito a tronare. No. Oltre. Partito. Vi ricordo che abbiamo solo questo oggetto di istituzione. Quindi. Anche altri. Anguello. Anguello. Oh quando vuoi? Yeah. Quando vuoi? Bele con lui. Prendiamo a farcela. Ah. Ha un HP. Vabbè. Adesso azzira è una legna fresca. Dai è fresca. È fresca. Però non posso portare a scassarire. Te lo fai. Te lo fai. È una Q. Azzira è una Q. È una Q bro. È una Q. È una Q. Penerci Ex Anni Non l'ha visto Oh, si leviamo Stiamo a togli Però il guardato, vabbè Bene, bene, bene Tiriamolo da Ezreal Sì E' buono, top Aiuto, meno quello E scendiamo E' una manolenza Ciao Buon amico mio, ci sono No, la E Per ingaggiare Ma loro la tengo qua Appunto, torno mi Oh Do fastidio Voglio ancora usare il mio sacco Dobbiamo semplicemente crecare Non ne cretiamo mezzo Inciò Non succede nulla Avrei che non stanno per ammattarli Così era dormito Ha dormito anche io 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 Per dirlo Non so Sono mid Settazione Arriva anche Warwick andiamo a levare vai vai pusciamo tranquillo però acqua ok ne sbattiamo andiamo top vi manca l'ainer io sono qua non dovrei essere qui questo ora sto giocando a tipo i campionati lcs del mondo aspetto perché cosi aspettandosi non lo sa lui non lo sa tranquillo lo digono lo digono devo prendermelo io la tannotofobia vabbè l'agro se da favore qualcosa vabbè quello lo andiamo a prendere vai tiriamo un gioco devo prendermela io la ulti perché ero pulito è ammazzato una mano ce ne andiamo arrivo amico arrivo arrivo amico mio bello quando non rompono i coglioni perché sono mutati buono qua zed si si ciulla il coso herald ho una mana noi siamo al 5 ovviamente abbiamo livellato un becazzo guardate che becazzo che faccio ah elmuse però lei non ha lo deckfield di Nabokos qua eh si salva Ezral arriva Zier e andrà su ovviamente morgana Zier non ha danni e ci danni ritrova riesce a trovare Ezral muore disgusting muore tu scegli la ho i danni per giocare robarle mi mi piace vanno andrà a prestartene Nessuno ha visto Io che sono fatto A prendermi qua Questa è stato da uomo Morgana è obbligata anche lei a ruotare Darmati Oh cazzo Passeva a toccare Morgana dalla mia E però no Non l'ha fatto E sei chiudere Quain sale top Ovviamente Devono fare Staccheggiato Azzurro Mostro Azzurro 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 Ah! Mi ha un amico! Ah! Mi ha un amico! Ah! 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 C'è un amico! Un uomo! Un uomo! Un uomo! Ah! 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 Il caffè è di un uomo! Ehm! Ehm! non va molto bene però è attenzione non va molto bene possiamo dare i nostri leati è mezzo per tanti su questo anche questo è un po abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare siamo morti per una concatenazione di eventi inaspettata adesso arriva Olaf Morbic ha fatto cagare non si è suicidato non si è neanche usato ma il gioco non brand non stiamo compando un cazzo però abbiamo 30 di vision score siamo praticamente comunque nella mappa e questo a diamante va bene qua purtroppo no sono preparati carini qua le carine lì non piacciono qui lo metto come di qua poi si vede dai lì piume da dietro un incidente un massacro la mia mi ha tipo spaccato mi ha tipo spaccato vabbè non potevo non potevo neanche far di meglio però gli alleati ragazzi non lo so pure l'ingeggio che ho fatto era veramente bello della madonna quindi sbroken eppure lissandra è bella broken ah lui smite ho la foto stava entrambi sta per fare la dunk play eh sta per fare la dunk play è stata cascazzo come freddo qua riprendo 4 ma che ci rispetti o che abbia paura o che non sa o che non sa ma quando è funzionato questo è sacco no mi storia interessato ci sono andato altrimenti ci sarei andato oh credo che riparei olaf mi darla ma non è una ulti olaf però magari non la so fare l'ulti casca non c'ho loro utilizzano filippo eeeh bellissimo bello bello non si riesco a incazzarmi di dietro allora noi scegliamo quando la parte sbagliato devo giocare nella parte superiore con una cosina un po' più di... questo è solo una battaglia che la sua vita ha stato scoperto flash o? si voglio rivederlo al VAR è stato io ho fiacciato anche lì però eh un po' quell'attimo o...quasi non giocano oppure meglio il caso uguale no allora noi andiamo di morello è un po' particolare eh ma vaffanculo va che è piano fingers a zia che piange basta ho altre... altre idee eh oh lo prendo qua eh devoltarli eh ma quando cazzo arriva carnevale qua? ecco il pagliaccio chaito oh ho 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 that's my ADC bro guardo ma non sei mai stato? in botti e poi ciò io sono ancora live g inadequate e alza una pulizia rapida quale non c'è niente di veramente per il da e insomma scena mi chiede quando si è un po' più trasandati michele riesco a operare il loro decci non va a essere un po' basso, fanno un alieno adesso taci un po' torniamo anche attacchiamo un po' direlo che ci mancò la qui ah 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 adesso nel culo proprio bella lì grande aldo con la vita proprio scelchiamo volevamo sbwain a fine Ezra riesce a farci zed non mi è partito neanche l'Everkost tra l'altro dove cazzo vado vado l'eser vado a scalare fatto che io abbia romato probabilmente ha impedito di far vedere quanto 1 2 3 faccio un schifo E fortunatamente la top 2 EXP va dentro, è che è quasi safe. Una costruzione che poteva essere più... Più particolare, ecco, deve essere un po' più... E ci siamo riusciti. In qualche maniera... Oeeh! Pisci. Eeeh, my bad. Eeeh! 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 Che non ho la zona. Però va bene, le side lanes abbiamo fatto tutto quello che potremmo fare. Il parallelo che... Sto giocando, stiamo recuperando eh. Non è peggioro da quando ho chiuso il demonio. Ho più danni. Manca Michele qua. Manca un attimo. Non ci Raise. No ti voglio muare. Ma andate. E' un po' più che ci farà things a capaccio. E' un po' più che ci farà things a capaccio. E' un po' più. E' un po' di fai. Gattisci. Wow. Wow. No, vuole, sono Beh, c'è Ezra, c'è Ezra, c'è Ezra, c'è Ezra, c'è Ezra, c'è Allora, guarda un sacco di attuabili Attenzione, oh, un'è, un'è, un'è Mamma mia, Ezra, che dottore, che dottore questo Il fulcro Ah, di una mano Buon è, eh Benissimo Però, sono tanto una cosa, io finito di Llevo il tecnico Ah, su, Ezra, le basse Oh, su, Ezra è basse Oh, su Oh, non, che ne venga sono Caldo Sforo Questa campanella All will kneel, in time. Oh. Poi andare contro... Andare in fine. Oh. Poverty. Eh. Okay. Grazie a tutti. 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 Guardate quanto è facile. Guardate quanto è facile. Guardate quanto è... ? no Lavoro da campanile, mi sembra? Lavoro da campanile, mi sembra? Quattro. Che bello. Non c'è nessuno di loro. Il tuo turretto è stato distrutto. Non ho mai restato. Sto qua. Non lo so, non lo so, no? Comunque questo Ezreal è veramente bravo. Ma... Quasi quasi, se aspettassimo anche il mio moreno no, mi conoscebbe schifo. Non c'è andare! Quell'altro dove cazzo arriva? Vabbè. Vabbè. Li ritroviamo di nuovo con Edreal che si riferirà di perdere. Cazzo vanno questi due qua, madonna santa! Nervi! Che hanno rannato da un finora, cazzo! Tutti le odi ci sono crepati in modo nell'altro... In modo nell'altro, appunto. che ha costato il Nasher che Edreal stealerà... Edreal sicuro fa una kill, due ne fa. Ha mirato a Zegna. Ma questo è il Bigin Store che ha fatto con un oracle. Esattamente ho fatto quella palla in un morelonomicon. È tosta, è tosta, eh. Tanto tosta. Tanto, tanto tosta. Tanto, tanto tosta. Tanto, tanto tosta. Tanto, tanto allegiance subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.